Oggi è sabato, sabato 27, guardate, guardiamo il mare com'è incavolato, raggiù ci sono dei surfisti, eccoli là, incavolato è girato ma ha un profumo in pesca, questo è un periodo che a me piace il mare, eccolo qui, che dona tutta la sua paese, si pallizza in grandiosità è salvo in grandiosità, anche la sirena, è incezionata, la sirena è avanzata, è arrivato sotto qui, sotto per quanto è tutto il mondo, terminale per il secondo, più sti a 10 volanti. C'è chi taglia la corda, ciao!